Buonasera, mi dico? Volevo cambiare quest'ira, che le capiste? Sì. È possibile adesso? Sì, come? Però vorrei correggere, forse, hanno bisogno di una potenzione di quest'ira. Sì. Vabbè. Volevo portare le mie chiave. Venga, venga. Volevo portare il modello. Volevo portare le mie chiave. Girando verso lo strumento. La spedaggiana, girando verso lo strumento. La spedaggia, girando verso lo strumento. Volevo portare il modello. Volevo portare il modello. Allora, c'è un po' di acquisto, la produzione è grisca. Ok. Allora Bagni, mi aveva detto sì, ma preferiva la montatura in metà. No, se io posso utilizzare questa. Sì, ok. Allora, aspetti che vediamo quanto riguarda le lenti. Senta, per quanto riguarda le lenti, io le suggerisco di fare quelle fotogramma. Invia il telefono. 328. 916 2283. Ok, bene. A vederci. Mi deve dare qualcosa? No, guarda, sei venuto qua. Sì, ma io non l'ho ricevuta. Ok, gliela aprivo qua. Ecco qua signore. Grazie. A rivederci buone cose. Sì, a rivederci. Buona giornata, rivederci. Buona giornata. Come va? Tutto bene? Sì. 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 Tutto pronto. Rivederebbe pure una custodia se ce l'hanno? Sì, sì. Adesso lo faccio. Sì. Per dire, no. Allora, intanto proviamo. Allora, questo lega da vicino. Quante, quante vicino a però? Quanto vi preoccupo? Quanto vi preoccupo? Quanto vi preoccupo? Il saldo è 13, 110. di 10 senti, pace, pace Avete visto come vede bene? Che è successo con me? Vedo qua! Grazie a tutti!